buongiorno questa mattina ancora una discreta quantità di nuvole qualche pioggia generalmente debole questa è la fase di intervallo cioè sarebbe un po il momento migliore perché abbiamo così imminente questo peggioramento che prenderà gran parte del fine settimana l'immagine di ieri a quest'ora quindi 24 ore fa dava già entrate queste nuvole vedete organizzate in questa questa linea una vera e propria perturbazione ma avevamo visto che non erano particolarmente intense come previsione soprattutto come fenomeni associati però dietro e dietro significa ovest significa sinistra nello schermo perché è da lì che poi mediamente arrivano sempre le nuvole le piogge le perturbazioni e così sarà anche questa volta l'intervallo che c'era vedete sulle zone del centro e del sud però guardate già a metà giornata siamo intorno alle alle 13 l'avanzamento di queste nuvole non troppo compatte quindi confermato il fatto che i fenomeni non fossero poi particolarmente intensi e a ovest e vedete quante nuvole continuano a vedremo a organizzarsi in serata ulteriore spostamento di queste nuvole verso est e spesso si sono come dire rotte c'erano degli squarci delle zone di sereno delle schiarite diamola così e poi guardate ancora il passo il passo successivo che quello della notte in cui c'è il miglioramento sulle zone di nord ovest ancora molte nuvole e poche piogge o comunque piogge debole perché per quello che riguarda penisola meno la parte del del centro sud l'ultima immagine c'è una specie di accelerazione quindi se ne vanno abbastanza rapidamente pronte intanto direi non proprio quelle che ci interesseranno fra domani e domenica ma la diciamo la l'avanguardia di quelle nuvole in questa zona dove insomma non ci sono nuvole più intense c'è sempre però quella nuvolaglia bassa e nuvolaglia non è dispregiativo è diminutivo la dire non è particolarmente intensa che fa sì che questo intervallo come dicevo non sia un non siano otto ore di sereno ecco per per intenderci queste nuvole faranno peggiorare il tempo già a partire dal pomeriggio serata di oggi infatti la previsione per la giornata di oggi la nostra previsione per oggi dava sulle zone di nord est medio versante adriatico parte del versante tirrenico del medio versante tirrenico questa linea di piogge residue quindi non maltempo però un tempo ancora un po grigio con qualche pioggia l'estremo sud invece con delle schierite un pochino più ampie e già sulle zone più occidentali il segno sparisce il sole per intenderci quel poco sole che era indicato da questi simboli proprio per l'arrivo di queste nuove nuvole vedremo adesso fra un attimo che cosa porteranno vediamo intanto i venti in prevalenza sud ovest o comunque meridionali questo ha fatto risalire le temperature molto sensibilmente sulle zone del centro un po meno al nord dove l'aria fredda ristagna un poco comunque rispetto a ieri i valori sono sono saliti vedete sono deboli sull'adriatico sullo ionio sul basso tirreno sullo stretto di sicilia moderati invece sui mari occidentali che sono che sono mossi tenete conto che nel corso del fine settimana col peggioramento del tempo avremo anche venti piuttosto forti lo vedremo ovviamente sia domani che dopo domani vediamo la giornata di domani il peggioramento marcato prende tutto il nord poi prende il medio versante tirrenico a seguire però la cosa è abbastanza rapida tenete conto che entro la serata di domani avrà preso anche tutto il centro e direi una parte anche del sud i temporali o comunque piogge forti piogge intense rovesci prendono la liguria al basso piemonte bassa lombardia alta toscana e poi a seguire anche le regioni di nord est magari i modelli ci danno più le zone alpine pre alpine però di piogge consistenti sono previste ovunque vediamo la giornata di domenica il maltempo si estende a tutte le regioni comprese quelle del sud quindi saranno piogge di una certa consistenza ovunque la tendenza però già in giornata però insomma calcolate pomeriggio forse le prime ore della sera comincia ad attenuarsi questo maltempo sulle zone di nord ovest corsica e sardegna vuol dire la parte più occidentale questo ci porterà la giornata di lunedì che per una volta è ancora festa con un miglioramento abbastanza deciso al nord un po' meno al centro e ancora non al sud dove insisterà questo questo maltempo vediamo nei tre giorni diciamo nel corso di tutto il fine settimana come variano le temperature oggi abbiamo detto in aumento la prima carta ci dà la variazione appunto di prevista per oggi quasi ovunque il verde o addirittura qualche zona di giallo che sono aumenti rispetto a ieri piuttosto sensibili ma sta proprio cambiando il tipo di aria ma vedete che poco o tanto le temperature aumentano ovunque parliamo delle massime parliamo delle massime ma anche le minime seguono ovviamente poi vediamo la tendenza per domani domani rispetto a oggi vedete che si è un po fermata qualche diminuzione qualche leggero aumento ma quelle come dire quelle piccole oscillazioni che sono quelle poi normali fisiologiche guardate però per la giornata di domenica si comincia a vedere la tendenza successiva perché se sulla pianura padana ci sono ancora degli aumenti in qualche caso abbastanza consistenti sulle altre regioni del centro e del sud abbiamo una prevalenza di piccoli aumenti o piccole diminuzioni ma guardate come a ovest sia tutto azzurro il che significa che c'è aria più fredda che sta arrivando non è aria gelida non è aria di freddi ma tenete conto che aria che arriva dall'atlantico quindi in questo caso è un poco più fredda di quella che ci ha o ci interesserà fino alla giornata di domenica quindi la giornata di befana probabilmente un po più fredda ma almeno al nord in parte al centro ancora abbastanza buona noi se volete ci vediamo domattina 7 20 7 50 adesso alessandra sardoni omnibus